E' stato inaugurato questa mattina a Scafati il nuovo sportello Amico della Gori. Il nuovo ufficio è stato aperto presso la Casa Comunale e seguirà questi orari il lunedì, il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30, il mercoledì dalle 16 alle 18 e il giovedì resterà chiuso. L'obiettivo, ha affermato l'amministratore delegato della società Claudio Cosentino, è migliorare il rapporto con i propri utenti. Io spero proprio che questo rapporto, ammesso che si sia perso, si possa recuperare. Certamente noi stiamo lanciando proprio in questi giorni una serie di iniziative, soprattutto nei territori comunali in cui ci sono state nel passato maggiori difficoltà, una serie di iniziative di regolarizzazione di tutti i rapporti. Perché questo, pensiamo che alla fine il problema sia stato nel passato, i cittadini abbiano magari ricevuto una bolletta, piuttosto una comunicazione che non è stata ben capita o che era non corretta. Quindi è necessario, come dire, rivedersi, recuperare e mettere a posto il passato per poter ricominciare il futuro con la tranquillità. Il passato non deve portare delle brutte sorprese, come si dice, quindi questo è un po' il nostro intendimento. Perché in molti casi questo è stato un po' il problema. Sicuramente degli errori del passato che adesso vogliamo sicurare. L'acqua, più che l'acqua bisogna gestire il servizio, bisogna far arrivare l'acqua nelle case di buona qualità e poi bisognerebbe anche portarla attraverso le fognature e i depuratori. Questa è la vera sfida che abbiamo davanti perché sappiamo bene che nel sud Italia, e certamente in Campania, e certamente nel lato 3 della Campania, ancora siamo lontani dagli standard europei e questo è, credo, il cruccio principale. Sicuramente il governo, l'amministrazione regionale ci stanno lavorando, ma credo l'obiettivo più importante dei prossimi anni. Quindi sportello amico per davvero? Sportello amico per davvero, poi naturalmente la storia ci dirà se stiamo facendo bene, ma io lo auspico tantissimo e sono sicuro che sarà così. Quindi non più molte salate e non più distacchi. Non ci saranno sicuramente molte salate, la Corio non fa le molte sicuramente, certamente bollette salate, sicuramente dobbiamo eliminare il problema legato alle letture, perché il fatto di non riuscire a leggere o di fare letture in ritardo fa sì che poi gli utenti abbiano delle sorprese riguardo ai volumi consumati che sono sempre antipatici. Quindi l'invito è di verificare se sono state fatte le letture, perché a volte i nostri operatori vanno, però poi per tanti motivi non riescono a prendere la lettura, perché le persone non sono in casa giustamente. Grazie. 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 Grazie.